Albano e Romina si sposano di nuovo? Il gossip impazzisce A volte, le favole, ritornano. Che sia una di quelle volte! Non ci sono né conferme né smentite sul gossip più caldo del momento. Un possibile nuovo matrimonio tra Albano e Romina Power, una delle coppie più chiacchierate del 2018. L'amore è eterno finché dura. Lui ha appena chiuso, una volta per tutte, la storia di decenni con Loredana Leccisa. Lei, sono anni che dichiara che l'amore dopo Albano non è più arrivato, addirittura, nel 2016 in occasione del matrimonio della figlia Cristel. Aveva dichiarato di essersi resa conto che per la chiesa lei e Albano erano ancora sposati e probabilmente sarebbero rimasti sposati per sempre. . Da mesi due si sono mostrati sempre più vicini ed ora sarebbe stato il settimanale nuovo ad uscire con un titolo che non lascia spazio a interpretazioni. . Albano e Romina si risposano. E i diretti interessati? Non commentano, né smentendo, né confermando. . Un atteggiamento che non può che far felici i fan, che nel no comment subito intravedono i fiori d'arancio. . 48 anni dopo. . Il primo matrimonio tra i due è stato 48 anni fa. . Sono rimasti sposati per 29 anni, durante i quali hanno cresciuto quattro figli, Romina e Lunga R, Iari, Ilenia e Cristel. . Insieme hanno dovuto superare il profondissimo dolore, mai veramente sopito, della scomparsa della figlia Ilenia. . Nel 2012 ci sarà il divorzio ma, dopo alcuni anni di tensione nei rapporti, i due si riavvicineranno. . Ultimamente, Romina si è lasciata andare a confidenze molto esplicative sull'intensità del loro rapporto. . . Non so cosa è che mi lega a lui, ha raccontato la cantante Barbara D'Urso, in un'intervista, è un legame indissolubile. . Questa cosa non smetterà mai. .